Questi animali con gli zoccoli sono pecore. Il loro nome scientifico è Ovisarist. Appartengono all'ordine degli reti dattili e della famiglia dei bovidi e della sottofamiglia degli ovini. Stanno bruciando l'erba. Ma le pecore sono utili anche per il vello e per il latte. Bruccate l'erba, le pecorelle. E poi?